E adesso di averlo iniziato il processo per un contello general di negozio con lo durante il 17 di novembre. Il senso economico anche lo saca fuori dato che è importante dell'economia di nostro paese, però anche se non ha visto l'influenza economica che utilizzano nella nostra isla a base di quello che non si gasta. Il paese ha fatto senso economico frequentemente dependendo del desarrollo dell'economia del paese. Il paese ha fatto senso economico, passano per il dato della situazione riguarda il paese e anche l'influenza turistica che è qui. Per noi è un hobby essenziale, tra l'altro, per aiutare a sviluppare un turismo satellite account. E' un progetto che dovrebbe finanziare grazie alla aiutazione del FDA. E' un turismo satellite account che ha divulgato tutte le transaccioni economiche che è in un settore del turismo. E' un turismo satellite account, e' anche la informazione che abbiamo collegato con l'economia di Economic Census, ci hanno dato un'ambito più migliore del impatto che il turismo ha riguardo alla nostra economia. E' anche la informazione economica è molto importante, ma anche la informazione che abbiamo collegato con l'economia in un'ambito più ottimale. e lo vai, per esempio, e lo vai determinar quale settore non si può identificar e bidrar di cada settore economico nel turismo. E' anche se può comparare se è in un tempo, se è che non si può identificar quale area, probabilmente, la bomba segue a desarrollare. In essenzio, lo busco a differente dato a base di 8 preguntas. I tapiti un itur, pa' por favor collaborare con i sacchi. Durante il senso economico, non c'è un'ambito di dare 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 anche informazioni e activistsi, ma anche il candidato di a serviziare che non hanno lo decennale, ma parte ci sia un'ambito, ma parte ci sia un'ambito, ma parte ci sia un'ambito. partì, entro i due seczioni. Noi stanno a metterciare il sumo totale del salario che ti voglio pagare, ai lavoratori, ai facolti, eccetera. E' importante che abbiamo fatto è la contribuzione di ogni negozio nel settore del turismo. A parte di avere informazioni di quanti dati, tipo di negozio nel ribano s'isla, e a proposito di un senso economico ci sono diversi. Basicamente, un CBS sta a monitorare non solo i candidati di negozio, i tipi di negozio anche, se non sta a generare più placi, se non ha confianto nella economia, se un'area geografica sta a desarrollare più, o se un'area geografica ha un po' di più per sobrevivere. Inoltre, inoltre, è essenziale per dare come input per gli altri stakeholders, con l'arte, con la Camera di Commercio, eccetera, con gli altri stakeholders, come se ti ha informazioni per giurare non con un'altra banda. Banda di cui è investigazione non è importante per i CBS e i comercianti, ma anche per la Camera di Commercio è essenziale. E tra una lista di turisti all'unico operato, e se può combinare che le cifrano con la mira dei risultati delle cifrano, che tra una quantità di dati che abbiamo dopo nel mondo, abbiamo registro basico, che praticamente tra domani solo le informazioni più concreta di compani, di su due, di su due, di su direzione, eccetera, una è stata stabilizzata in filiale, una non è che c'è il capitale invertito, eccetera. Però se il bucchier realmente usa i dati, non è come si è cominciato, ma non è come si è combinato con il costo, e ora, di repente, abbiamo un picture più completo che può fare al gruppo. La notizia è oggi, a me da Eshel Simon. La notizia è prima fase di senso economico, lo comincia a AVE, e sta durante il 27 di novembre, e di 2 fasi, iniziare il primo di dicembre, per il 12 di dicembre, e sta per di un tour, per favore, colabora nel senso passino per via, e in che direzione non si segue a desarrollare il nostro paese.